adesso siamo vecchi non c'è niente più quali erano le campagne dove andavi a lavorare c'erano tante campagne io non so quanto campagna ho girato dimmeli dimmeli tutto il comune di pazzano l'ho girato come si chiamavano quelle dove andavi più spesso più spesso andavo a finocchio di l'inverno se viene d'angelo d'estate e tuttora ancora ci vado qualche volta genera anche ma che devo con la macchina adesso è certo una volta come andavi a piedi che voleva un'ora e mezzo nel cammino mamma mia la mattina e un'ora e mezza la sera e lavorare il giorno pure tu andavi a gianna d'angelo era tuo e che si coltivava gianna d'angelo che si coltivava la vigna facevamo gran turco fagioli pepe melanzane facevano una cosa di tutto c'era la fonda la bella si dove c'avevamo come si chiama dove si innaffia no c'erano tre fonti grandi però dovevamo fare oltre un chilometro di acquedotto a piedi e dove sono queste tre fonti erano una parte chiamata ceravolo ceravolo ballone ceravolo sulla carta dice ballone ceravolo e ci sono ancora sotto lì sotto il tappo c'era il ballone ceravolo con queste fonti e perché non andavate al tappo era più lontano e lì non c'era non c'era niente strada allora ah non c'era strada no la strada l'hanno fatta adesso e al ballone a ceravolo c'era c'era già il piede si portavamo l'acqua tanto lontano mamma mia buona legge i treccan